L'odevole iniziativa, quella del Comune di Teramo, sessorato all'ambiente, di coinvolgere gli agronomi e gli architetti paesaggisti per il verde pubblico della città. Ma sono stati esclusi gli agrotecnici e qui nasce una polemica. Sì, sicuramente. Chiaramente noi ringraziamo il Comune per l'attenzione per il verde urbano, che è materia anche di nostra competenza. Quello che ci dispiace è che con gli agronomi, che abbiamo un rapporto anche così di consulta, anche regionale e quant'altro, si siano dimenticati di invitare anche a noi. Hanno invitato anche nel primo tavolo l'incontro architetti e ingegneri. Ci dispiace perché noi siamo anche più numerosi dal punto di vista tecnico-professionale, cioè abbiamo più iscritti anche degli agronomi. Raggruppiamo oggi tanti neolaureati anche in ambiti diversi, scienze ambientali, scienze forestali ed altri poco rappresentati in altre categorie. Quindi così ci avrebbe fatto piacere essere invitati al tavolo. Io spero e sono sicuro che il Comune ci darà la giusta attenzione. È chiaro che rimaniamo un pochettino basiti sul non invito. Quale supporto in più potreste dare? Allora, noi chiaramente già siamo presenti sul territorio. Siamo tanti, lavoriamo già spesso con Comuni identi, quindi già lavoriamo a stretto contatto. Siamo soci fondatori dell'ITS, il Sottotecnico Superiore, quindi siamo già presenti in diversi ambiti. Ci dispiace, ripeto, perché il Comune sa delle nostre competenze, non siamo sconosciuti nel mondo anche locale, quindi le nostre competenze diciamo che sono le stesse o tipiche degli agronomi. Chiaramente parliamo dei laureati, non parliamo dei diplomati. C'è anche il discorso della scuola agraria. Noi veniamo da quella scuola di Nepezzano, che è prettamente degli agrotecnici e non degli agronomi. Quindi anche lì è stato un po', secondo me, una gaff istituzionale invitare gli agronomi e non gli agrotecnici, con il quale di Poppa lavoriamo anche all'ITS e tutto il resto. Quindi è anche una cosa un pochettino imbarazzante per non essere messi un po' da parte. Peraltro ci sarà un convegno, proprio nella giornata di domani, per parlare di questa iniziativa nella scuola che vi ha formati. Perfetto, è proprio questo. Infatti lì abbiamo fatto anche dei corsi sul discorso della potatura arbora e quant'altro. adesso essere dimenticati e messi un pochettino all'atere, diciamo che ci preoccupa un po', ripeto, l'atteggiamento molto di alcuni che forse hanno dimenticato non casualmente la nostra competenza.